La Fiera di San Martino La Fiera di San Martino La Lida e l'associazione Muoversi Allegramente Un bellissimo colpo d'occhio quello che la Kermesse ci recese offerta al numeroso pubblico intervenuto a questa edizione Percorrendo via Rosmini dove erano posizionati i banchi dei prodotti agricoli e non si giungeva i piazza vittime dell'IPCA dove per l'occasione erano situati i macchinari agricoli di grandi dimensioni e il bestiame una lunga distesa di mucche che con i loro mugiti hanno ottenuto l'attenzione di grandi e piccini Gli espositori da anni presenti in fiera hanno commentato che una volta riuscivano a vendere i prodotti già lì ora invece la gente guarda ma poi per l'acquisto vero e proprio va in magazzino per scegliere quello che fa più il caso loro Comunque è sempre un bel colpo d'occhio vedere così tanta gente affollare le vieci recesi molta soddisfazione anche da parte dell'amministrazione comunale per la buona riuscita di questo evento fioristico Grazie a tutti